Dopo i dieci minuti da protagonista nell'ultima gara contro la Finlandia, Fabio Quagliarella è l'uomo al centro dell'attenzione di tutti in vista della prossima sfida della nazionale di Roberto Mancini, non ho ancora scelto la formazione ha detto il CT ma Quagliarella non è un giocatore a gettone Merita di stare qua, il CT azzurro però non si sbottona quando gli viene chiesto se per lui arriverà una maglia da titolare contro il Liechtenstein, nella sua carriera ha sempre dimostrato di saper giocare a calcio ha proseguito Mancini e da tanto in nazionale ed è rientrato perché noi dobbiamo qualificarci e abbiamo bisogno del capo cannoniere del campionato Con la Finlandia ha avuto due occasioni importanti ma è anche entrato in un momento particolare della partita